Ragazzi bentornati a un nuovo video Oggi Faremo delle partite E faremo un unboxing Prendiamo a startare una partita in due Su Sopravvivenza in due Dovete vedere il mio primo video Un po' di capire un po' E faremo dei video con i vostri amici E Se volete vincere Se volete vincere delle gemme Sopravvivenza in due Un po' di capire Un po' di capire Un po' di capire no 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 vabbè 3 3 3 3 entrate nel mio club che si chiama 77 suo gang se volete vincere delle germe andate su cliccate è un'applicazione gratis che vi permette di aggiornarvi e guardare ogni mio video entrate nel mercato zan crew e anche nel ryanair accendo e questo è tutto ehm ah la connessione questo è il mio armadietto no aspetta apri ehm qua è il mio armadietto di brawler rosa shelly colt stetta e carl il primo bull bombardino ehm mortis dynamite nita ehm pocho jesse brock e pam che l'ho appena trovata prima andiamo a startare qualche partita con noi pocho e vi dico un consiglio pocho usateli nelle partite singolo è fortissimo scusate raga che ho andato un paletto non ci credo è ancora l'altra posizione è come dirvi a ragazzi questo da me oggi è tutto ricordatevi di un spolliciare spaccate il bottone del like e iscrivetevi al mio canale e ragazzi non la ditevi correte a seguirvi e ciao ooo 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 ooo